Buongiorno a tutti, grazie per aver partecipato a questa celebrazione che ritengo essere importante. Si festeggia il giorno della liberazione, liberazione uguale libertà, libertà uguale responsabilità. Responsabilità di vivere in un mondo che ti obbliga e vuole che nessuno vada a calpestare i diritti altrui. Credo che tutte quelle persone che hanno combattuto, che hanno dato la loro vita, lo hanno fatto per darci un mondo libero e svincolato da ogni condizionamento. E credo che questo sia anche l'animo, lo spirito che anima tutte le associazioni combattentistiche. Io credo che questa festa debba tornare a essere libera anche da strumentalizzazioni politiche, così come lo sono i brani che la rappresentano, così come lo sono i testi. Qui non credo che debba esserci politica, qui debba esserci soltanto un grande contenitore di valori, quel valore che è la libertà. Queste persone hanno combattuto, hanno dato la vita appunto con questo spirito, senza pensare che oggi noi avremmo potuto cominciare delle battaglie politiche legate alle loro battaglie, quelle reali che li hanno portati purtroppo a perdere la vita. Quindi credo che dobbiamo tutti quanti focalizzarsi sui valori che sono stati trasmessi e non tanto su quegli ideali distorti che troppe volte vengono invece affiancati a questa iniziativa. Io vi ringrazio davvero tanto, credo che oggi tra l'altro avremo anche nel nostro territorio il Presidente Mattarella, che voglio anche ringraziare, ma io ho scelto di ricordare i caduti della nostra comunità. È stata una scelta consapevole che non vuole mancare di sicuro di rispetto al Presidente della Repubblica, ma vuole essere un segnale accanto alla nostra comunità. Questo ci tengo a sottolinearlo e vi ringrazio a tutti voi per la vostra presenza. Grazie a tutti.